Come hai vissuto questo giorno di festa in mezzo a noi? Beh, l'ho vissuto con molto interesse, molta curiosità di vedere questa chiesa piena di bambini, di ragazzi, vedere che cantavano con entusiasmo, che stavano persino attenti alle letture e alla predica, che sono molto belli e simpatici. Non so se qui a questa scuola si radunano soltanto i ragazzi più belli della provincia, però ecco sono simpatici, sono belli, alcuni sono vestiti in modi un po' improbabili, alcune ragazze hanno le unghie dipinte in colori un po' terrificanti, però per il resto insomma io sono stato molto contento e poi ecco la cosa più importante è che ho conosciuto un po' la figura di Paola Elisabetta, ecco questa santa che ho potuto conoscere proprio per prepararmi a questa messa, a questo incontro e quindi per me è stato un giorno di festa, ho visto che i ragazzi erano un po' tristi perché hanno dovuto saltare la scuola, però insomma io invece ero contento, ecco diciamo. Che cosa ci fa un arcivescovo di una chiesa grande come quella di Milano? Fare l'arcivescovo di Milano è una cosa semplicissima perché a Milano c'è questo vantaggio, siamo tanti, è una chiesa così grande e ci sono tanti collaboratori, quindi l'arcivescovo si mette lì nella sua poltrona, chiama uno e gli dice tu per favore fai questo e lui lo fa, tu per favore fai quest'altro, quindi è un lavoro diciamo così di tutto riposo, ecco e quindi è per questo che sono anche venuto qui dove sono fuori diocesi, diocesi perché questa è la diocesi di Brescia mi pare, ecco mi pare che qui c'è un vescovo che si chiama, come si chiama il vescovo di qui? Non mi ricordo più chi è, Pierantonio, ecco mi sembra, mi sembra persino che sia di Milano, quindi è stato rubato, era un mio collaboratore, quindi non so perché voi me lo siete portati via, però questo per dire che poi dopo di lui ce ne siamo fatti altri di collaboratori, ecco quindi è questo che fa il vescovo, è un po' quello che dovrebbe tenere insieme la chiesa chiedendo a tutti di collaborare, ecco. Lei è molto simpatico, cosa si sente di dire a dei ragazzi come noi? Beh, anche voi siete molto simpatici, però ecco io qualche volta ho questa impressione che i ragazzi come voi, che non conosco voi, però in generale quelli della vostra età, mi sembrano un po' complessati, come se loro si guardassero allo specchio e dicessero, ma qui non sono così bella come quella là, non sono così bravo come quello là, non sono così alto come quello là, non sono così simpatico come quella là, quindi sono un po' complessati, no? E quindi magari dicono, chissà se ce la farò nella vita, chissà se potrò essere amato, e quindi ecco sono un po' complessati. E invece io dico, forse in ogni ragazzo e ragazza è come se fosse un bruco, no? Che striscia, striscia, mangia la verdura, la frutta, eccetera, e invece deve ricordarsi che deve diventare farfalla, ecco, quindi vuol dire a voi ragazzi direi ricordatevi che siete fatti per volare, ecco, no? Per strisciare, ecco, questo direi. Lascio un messaggio a tutti i nostri genitori. Beh, saluto tutti i vostri genitori e il messaggio che vorrei lasciare è questo, ecco, così come siete andate bene per aiutare i vostri figli a trovare una ragione per vivere bene, ecco, perché i genitori di oggi qualche volta dicono, ah, io se mio figlio ha bisogno del dentista lo porto subito, ah, se ha bisogno di fare sport lo porto subito, ah, se ha bisogno di un vestito il giorno stesso glielo compro, quindi provvedono a tutto, però ecco, qualche volta sul tema che senso ha la vita e che per cosa vale la pena di vivere sono un po' imbarazzati. Grazie a tutti.